a prova no non provi fate la sponda allora a bigliardo 1 lucarino federico ristati lucca vediamo lo spareggio a bigliardo 2 facciamo il primo quadro così che ci guardiamo avanti partì il pileniere la cacca di boccia contro paroni questo o no? allora ragazzi Luca allora fate voi la chitto chi vince chi vince decide di fare le prove per primo per secondo e se ne vede aspetta Eddie perché volevo farmi partire di uscire ma chi vince luca eh ah luca hai hai fatto un altro che faccio un altro si dai per presto vai luca non è ritardo poi vai la sponda poi dopo ti dice ti ringrazio 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 ehi guarda il quadro più fai il traste vai il quadro più il traste a mettermi fatti con il vento grazie 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 cittadino ci sono le due la singolo in quelli Porto Tolle a Londo Caffè. Questo è uno spareggio fra Baroni contro Ebre. Su un biliardo 2 stanno giocando Graziani e Daniele Marchetti che è un quarto di finale. Questo è un luogo uno, un carissato, incontro Federico Zuccarì e un altro spareggio. Un'estretata sponda di Ebre. 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 Grazie. Non me lo metto, se vedete che c'è buio perché le uniche luci accese sono quelle ribigliate, la sua famiglia padre ribigliate, la sua famiglia motosoft. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Buongiorno a tutti. Grazie 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 a tutti. 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 Allora, quando ve le porte fuori con un sale che ci ripenso, che fare un po' di inizioni. Fatto con un po' di buona sorte, che ci vuole. Il punto era molto difficile. 18-12. Questa è la bocca. Il vino è un baratro. 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 Il fuoco. 1-38. Il vino è un baratro. 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 Grazie. Manaccia per baroni. Sotto dieci a tutti i mogli. Io vengo a fare dei punti che cambiano. Può fare con la sponda. Abbondante, abbondante, abbondante. Un saluto. Un saluto. Un saluto. Grazie a tutti. Il livello di gioco si sta letteralmente alzando. 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 Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. 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 za. Grazie. Grazie. grozie. Grazie. 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 Grazie a 69. Grazie a 6. Grazie. 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 Sessantaquattro, venta. Grazie. 72 bello, bello il calcio il calcio il calcio il calcio il calcio Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.